è cominciata la partita della terza giornata del training cup qui al san germano training cup di calciotto tra athletic club portici e calla pallone dietro per perfetto persico profondo persico cercare auricchio la chiusura però attenzione orlando orlando calcià palla sul fondo orlando ci ha provato attenzione alla valla recuperata opportunità per il destra di caliendo la rete 1 0 per la training club portici caliendo avanza sulla destra caliendo con i piedi il portiere battuto del calcio d'angolo con caliendo che prova morbido la parola del portiere e poi di testa rete di saulino 2 a 0 per la tre amicarelli viene fermato bravo mea spazza e poi caliendo attenzione altro spunto da parte di auricchio va via gran numero auricchio la palla del portiere la palla resta lì e ancora il portiere a dire no bravo d'agostino zucco avanza caliendo fermato in tegel bravo qui mesonella che ritorna dal portiere d'agostino erroraccio di mea che perde palla è quasi autogol gran parata però d'agostino di d'agostino va via con un numero pesonella sulla sinistra non supera però il difensore zucco bravissimo anzi no caliendo bravo orlando sbaglia completamente il passaggio ciampa ciampa va bene continua a giocarla subito battuta d'agostino la rimessa dal fondo sbaglia d'agostino e la destra la parata la parata sul tiro di persico mette in corner d'agostino calcio d'angolo battuto l'appoggio per orlando attenzione alla destra super golasso ottimo lo schema la rete poi di caliendo che fa doppietta la rimessa amicarelli lotta contro caliendo scontro tra giganti amicarelli di testa ribatte verso l'area di rigore bravo d'agostino a metterci il piede poi tanta confusione prova a metterla a terra saulino che lotta contro gagliardi alla meglio saulino calcia sul fondo rinvio con i piedi va attenzione amicarelli calcia trova lo specchio bravo però è il portiere a mettere in corner calcio d'angolo battuto la palla viene respinta dalla difesa poi resta lì pizzo per mesonella che la piazza palla sul fondo altra chance vittorio sali tu vittorio sali tu è uscito domenico chi sale gagliardi apre rischia un po su mario caselli attenzione opportunità per caliendo la rispinta del portiere bravo d'agostino se la cava in qualche modo spazza lontano orlando riesce a servire auricchio la rimessa per l'atletica club portici c'è il movimento dentro la sponda attenzione la palla resta lì saulino saulino doppietta per lui 4 a 0 sale mesonella pressato auricchio mesonella si libera dell'avversario poi cerca il dribbling amicarelli controlla serve a destra pizzo io qua non so stare alla veglio pizzo amicarelli calcia sul fondo sul fondo palla alta lancio del portiere pelotti poi auricchio va via centralmente auricchio trova perfetto saulino dentro poi orlando alta sopra la traversa che azione però dell'atletica club portici galoppa sulla fascia l'intervento sul pallone non è non è falloso su cagliardi auricchio a auricchio punta l'avversario doppio passo va col sinistro super parata nel portiere bravissimo d'agostino si continua a giocare opportunità per l'atletica club ancora un doppio passo qui l'intervento però è regolare attenzione si dimenticano nel pallone l'invio velotti con le mani centrale mea quindi amicarelli insiste mea perde palla e va via ora sulla sinistra auricchio punta l'avversario se c'entra auricchio risalta un altro calcia e poi amicarelli allontana la minaccia verotti apre sulla destra si fa vedere caliendo al centro bello l'appoggio per auricchio che ha spazio al centro campo arriva pizzo in copertura sulla sinistra orlando che punta l'avversario va col doppio passo entra dentro calcia la trova all'esterno della porta forse anche la rispinta del portiere comunque calcio d'angolo in due tempi palla scavalcare tutto il centro campo orlando perde il contrasto con Gagliardi bravissimo caliendo ci mette il piede e quindi orlando poi c'è il fallo termina così atletic club portici 4 cala 0 e altri 3 punti via 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 bello grazie a tutti grazie a tutti